Allora, com'è stata questa Svezia? Peccato che è già finita. Peccato che sia già finita. Stasera, dopo i festeggiamenti, cosa si fa? L'Italia vince stasera. Ma non la guardiamo la partita. Non la guardiamo la partita. 3-1, 3-1, 3-1. Guardiamo la partita. Perché avrete altre partite da giocare. Alle 9 ne abbiamo una. Alle 9 voi? 9 e un quarto. Ma ritrovo che ora? 9 e un quarto. Ah, sfigato. Con supplementari, però. Guardalo. Guarda, te invece, tutto bene? C'è tuo papà qua, occhio a quello che dici. Mister, io e te ci siamo parlati prima della semifinale. Tu mi hai detto una cosa. Certo. Stasera andiamo a guardare il Maxi Stermo in Italia. Cosa succederà? Cosa succederà? Difficile. La partita è difficile. Però penso che l'Italia sarà campione d'Europa. Mamma mia. Pubblichiamo subito e vediamo. Ok, ciao.